buongiorno a tutti da questo primissimo e forse ultimo cycling podcast italiano facciamo gli scongiori speriamo di no io mi chiamo daniel fribe sono di solito un terzo del cycling podcast inglese o normale lo chiameremo ormai così con richard more e lionel bernie altri due colleghi che seguono il mondo del ciclismo professionistico loro due non potevano accompagnarmi oggi perché non parlano italiano ma nella loro assenza e facendo forse qualche errore grammaticale perché non sono di madrelingua italiana spero di presentarvi alcuni podcast esclusivamente italiani nel corso di questo centesimo specialissimo giro d'italia che seguirò in itero nella caravana della corsa non so in quanti sarete non so se vi divertirete spero di sì ma intanto vi offro questa prima puntata in cui parlo col direttore generale del giro maro vegni della corsa rosa e soprattutto della specialissima edizione appena partita dalla sardegna quindi maro ovviamente volevo parlare di questo concetto del centesimo giro e poi volevo iniziare con un po di sto della sua storia questi questa questo legame con franco meale no si chiamava e queste prime corse ciclistiche volevo sapere se magari se già allora quando lei aveva 13 anni 14 anni cioè sentiva quest'amore per il territorio questo un patriotismo in un certo senso o era una cosa più legata al ciclismo all'agonismo è notorio che io non sia troppo giovane per cui chiaramente siamo un po cresciuti gente della mia età con dei valori forti no sicuramente il valore della patria era un valore importante il valore del territorio il valore della gente ci si è cresciuti con questi valori per cui li abbiamo sempre sentiti e quindi non era solo un fatto di proporre un evento sportivo come il ciclismo ma era una cosa innata si credeva ideali c'era una gran voglia di di libertà intesa nel senso più ampio quindi di conoscenza e questo l'abbiamo in qualche modo vissuto sulla nostra pelle in quegli anni in cui ero piccolo stiamo parlando quindi non per non perdere nella solità però stiamo parlando degli anni sessanta sì assolutamente diciamo anni sessanta inizio anni settanta erano gli anni in cui c'era questa grande voglia di conoscere il mondo di uscire da degli schemi di avere la possibilità di andare al di là non avere regole non avere poi sapete tutti cosa sono cosa hanno rappresentato quegli anni nella storia della della società insomma più che nella storia italiana ma nella storia della società in senso in senso generale e quindi si sono quelli gli anni ma quindi il rapporto degli italiani con il paese proprio anche quello è cambiato molto secondo lei ma sì assolutamente è cambiato il rapporto degli italiani e del loro paese con il loro paese ma credo che questo sia un po un fattore comune un po a tutte le nuove generazioni non è un sicuramente un fattore italiano è un fattore mondiale abbiamo negli anni alla fine degli anni sessanta settanta sicuramente questa questa voglia di poter uscire da degli schemi di poter provare cose nuove di vivere emozioni nuove ha portato a un cambiamento della società in senso generale poi da qualche parte ha avuto degli estremismi dall'altra parte ha avuto altri problemi ma insomma voglio dire Woodstock non è stata in Italia insomma quindi al momento di dover disegnare un giro nel centenario che impronta voleva dire che messaggio voleva dire sia agli italiani sia al mondo di ciclismo ma sicuramente questa è giusta è una bella domanda che non mi ha fatto quasi mai nessuno anzi devo dire che forse sei stato il primo a farmi questa domanda perché cosa volevo dire cosa volevo raccontare sicuramente non ciclismo anche se lo spunto nasce da quello sicuramente il ciclismo è il fil rouge per raccontare qualcosa di più importante di più forte di valori più importanti dal punto di vista del ciclismo chiaramente la parte sportiva si è molto allineata alla parte filosofale no nel senso che il disegno del giro tecnicamente è stato fatto in maniera da come dire coinvolgere tutto il paese ricordando anche attraverso le sue tappe coloro che hanno fatto grande dal punto di vista sportivo questo paese ma è chiaro che quello che questo centesima edizione di giro vuole vuole in qualche modo raccontare vuole raccontare esattamente questa voglia di essere italiani questa italianità molto apprezzata all'estero e magari molto meno in italia questa voglia di sentirsi orgogliosi di essere italiani e sentire che siamo un paese da tutti stimato e amato e noi volevamo in questo centesima edizione del giro in questo disegno del giro provare a raccontare un po il nostro paese attraverso le immagini di questo sport la voglia è proprio la voglia di italianità e raccontare il nostro vivere all'italiana cosa significa che è un valore aggiunto per tantissimi paesi nel mondo perché noi rappresentiamo il paese il bel paese il paese dove tu hai paesaggisticamente dei posti che sono fantastici raccontare di un paese che ha cultura che ha moda che ha di tutto insomma no e che noi molto spesso non non gli diamo il giusto valore mentre magari in molti paesi del mondo rappresenta un plus che noi non riusciamo a riconoscere e questo noi volevamo raccontare con questo centesimo giro cioè cosa significa essere italiani come come siamo noi italiani che storia abbiamo dietro di noi quante difficoltà quante delusioni ma quanta capacità di ripartire di ricrescere nel momento in cui sembra che noi stiamo per esalare l'ultimo respiro esce fuori l'italiano l'italiano che all'ultimo momento ha quella guizzo quella quella voglia di ripartire e riparte riparta la grande noi avevamo voglia di questo e le sembra che a questo punto della storia c'è questa sfida di raccontare l'essenza dell'essere italiano essere italiani magari è una sfida più difficile raccontarla farla capire agli italiani che non agli stranieri che apprezzano e hanno sempre apprezzato queste cose sono partito dal dirti infatti che la voglia è quella di raccontare come siamo perché all'estero apprezzano molto di più di quanto noi non siamo capaci di apprezzare di noi stessi e sono d'accordo la fatica maggiore la riscontriamo proprio all'interno di quelle che sono magari le nostre istituzioni mentre da altre parti le istituzioni sono a fianco a progetti di questo genere per valorizzare sempre di più il proprio paese noi su questo facciamo un pochino più di fatica ed è forse questo anche lo stimolo a provare a raccontarci proprio perché siamo un po' come dire un po' soli in questo percorso e vogliamo dimostrare a tutto il mondo che comunque siamo in grado di farcela anche da soli Lei è coinvolta nel disegnare in giro non solo da quando è direttore però da tanti anni come è andato raffinandosi il suo modo di fare e il suo modo di disegnare un percorso? Come è migliorato soprattutto? Ma guarda noi in questi anni effettivamente ci sono stati diversi cambi di filosofia nel disegnare un giro ma perché cambia anche il modo di correre, cambia l'interesse dei media, cambia il piacere della gente che è sulle strade quindi hai il dovere di in qualche modo adattare la tua idea a quello che vuole la gente chiaramente ribadisco senza stravolgere però è chiaro che in questo dei piccoli cambiamenti sono stati fatti ma che poi credo con molta franchezza che anche altri ci abbiano seguito su questo percorso altri che magari per tanti anni hanno avuto un cliché, un format che cominciava a essere un po' vuoto, un po' esaurito noi abbiamo sempre cercato tutti gli anni di dare dei motivi in più, motivi tecnici, sportivi e non ai nostri giri quindi abbiamo cominciato con disegnare un percorso che fosse già interessante nella prima settimana perché tu non puoi permetterti in un mondo dove i media sono la massima espressione di quello che è il tuo evento non puoi permetterti di tenerli una settimana in caldo aspettando che oggi la comunicazione si brucia velocemente, i tempi della comunicazione sono velocissimi e tu non puoi buttare una settimana di comunicazione aspettando che, devi subito dare cosa comunicare e quindi anche su questo abbiamo cercato di fare una prima settimana sempre molto più interessante abbiamo rimesso le crona squadre, adesso le abbiamo ritolte, abbiamo messo gli arrivi di tappa al finale della prima settimana gli arrivi di tappa in salita nel finale della prima settimana, adesso li mettiamo addirittura dopo 3-4 giorni proprio perché ci deve essere questo interesse quotidiano che fa sì di tenere alta l'attenzione sull'evento fin dai primi giorni e questa filosofia ce la siamo portata appresso in questi anni dico che in questo il tour adesso comincia in qualche modo a seguire un po' quello che è la linea filosofica che stiamo adottando noi però ecco, da questo punto di vista credo che noi siamo stati molto attenti alla richiesta di quello che è i pubblici con i quali ci confrontavamo sia che fossero pubblici media, sia che fossero pubblico pubblico, cioè la gente sulle strade sia che fosse dal punto di vista delle televisioni di quello che era la richiesta e soprattutto abbiamo sempre cercato di proporre a fianco all'aspetto sportivo anche quello che molto spesso piace di più il nostro paese affiancare all'aspetto sportivo anche un aspetto culturale e paesaggistico che non abbiamo sicuramente difficoltà a recuperare nel nostro paese Il suo collega Christian Prudhomme ha spesso parlato della frustrazione di questo modo di correre è molto a forma mi sembra che lei, che è il giro, abbia meno problemi a questo riguardo però c'è una fonte di frustrazione ricorrente o qual è la fonte di frustrazione più corrente nel modo di correre della generazione attuale? Mi sono incontrato forse 15-20 giorni fa con Christian e tra le tante cose emerse sul problema anche della sicurezza poi siamo andati a parlare anche un po' del modo di fare ciclismo oggi perché chiaramente da operatori di questo settore devi essere sempre attento a quello che il pubblico, la gente chiede i corridori hanno fatto un censimento di quello che è stato il loro stato di piacere degli eventi di quest'anno ponendo dei tre grandi giri il tour è proprio all'ultima posizione sono stati i corridori stessi perché? Perché è chiaro che quella che è la tensione mediatica l'interesse economico che c'è dietro al tour è talmente forte che il modo di correre è un modo poco spettacolare per non dire molto peggio e quindi si ha sempre una corsa troppo controllata troppo tutto e su questo io mi sono permesso di dire che anche fino a poco tempo fa tutti insistevano dicendo che la radiolina le radioline erano uno dei problemi della modalità di questo correre può darsi che lo sia stata io non ne sono convinto io per esempio sono molto convinto che tutti quei computer che si mettono sulla bicicletta durante la corsa non dovrebbero essere usati allora io dico che tu io organizzatore ti do il tracciato delle tappe tu te le fai al tuo computer te le studi ma durante la corsa quando c'è qualcosa di diverso da quello che tu hai programmato deve essere l'uomo che deve decidere cosa fare purtroppo oggi con questi computerini decidi qual è la media dei tuoi battiti la media delle watt che devi consumare a chilometro e alla fine l'obiettivo lo raggiungi è troppo meccanico è troppo da laboratorio è poco da sentimento è troppo poco da cuore oggi a mio modo di vedere questi format io lo dico sempre anche ai vari rappresentanti dei corridori ragazzi bisogna ritornare quantomeno cambiarlo questo format perché la gente si è stufata oramai la gente cosa fa? accende il televisore all'ultimo magari lo tiene acceso ma non lo guarda perché poi noi guardiamo dei numeri che molto spesso sono fasulli perché tu basta che hai il televisore acceso ma andiamo a vedere quanta gente col televisore acceso veramente guarda quello che spassa nel televisore la realtà lo faccio anch'io io nel mio ufficio anche quando c'è il tour quando c'è il giro non posso ma farei la stessa cosa lo tengo acceso ogni tanto passo e guardo quanti chilometri mancano all'arrivo quando sono a 20-30 chilometri guardo la corsa perché il resto è noia purtroppo il resto è noia e questa modalità non aiuta a tenere la gente a fianco a questo sport anzi aiuta a tenerla lontano un altro aspetto che io non condivido per esempio personalmente e poi chiaramente le aziende hanno interessi diversi io non condivido per esempio il concetto delle trasmissioni troppo lunghe perché altrimenti rischi anche lì la gente di stancarla e di non seguirti più dopo un po' per cui dico il vero problema sono d'accordo è un format che non è valido è un format che deve essere cambiato parlando del tour dicevi insomma è chiaro l'hanno visto tutti erano due corse all'interno di una corsa però è difficile far capire la gente perché la maglia gialla il corridore più forte al mondo così come viene definito arrivi venti minuti dopo di un altro corridore che invece magari non sta neanche in classifica allora una volta o due poi la gente dice ma non è una corsa questa è una finzione e quindi diventa un problema anche per noi organizzatori dare credibilità al risultato di queste corse abbiamo parlato dell'Italia l'immagine dell'Italia parliamo un attimo del ciclismo italiano e ovviamente si è parlato molto dei wild car dell'anni Pofantini via dicendo lei comunque in passato ha organizzato gare come il trofeo Pantalica corse di questo genere quindi conosce più di qualsiasi altra persona cioè la base della piramide del ciclismo italiano quanto si preoccupa lei del futuro del ciclismo italiano in questo momento? allora io giustamente come ricordavi tu vengo dalla gavetta non sono sceso per grazia di Dio su una poltrona come magari capita a qualcuno io mi sono dovuto fare tanta gavetta ho iniziato negli anni 70 per cui ho cominciato con un piccolo organizzatore a lavorare a fianco a un piccolo organizzatore piccolo ma grande perché era una persona dal punto di vista umano dal punto di vista della conoscenza tecnica dal punto di vista dei rapporti eccezionali mi ha insegnato molto in questo però sono partito anche facendo le gare per dilettanti facendo i piccoli eventi faccio un esempio Bruno Reverberi prima di conoscerlo da direttore sportivo di una squadra professionistica io lo conoscevo da come si dice da commissario tecnico della rappresentativa regionale dell'Emilia Romagna con la quale lui veniva a correre il Giro d'Italia dilettanti quindi ancora prima che passasse al professionismo credo che sia 34-35 anni che lui dirige squadre professionistiche per cui immaginati quando dicevo non sono giovane per cui conosco il mondo del ciclismo italiano in particolare dalle basi dalle sue radici ti devo dire che sono estremamente preoccupato perché poi noi lo andiamo ad analizzare adesso partendo dal professionismo invece il professionismo deve essere il punto di arrivo di un'analisi bisogna partire dal basso allora cominciamo a capire perché non c'è più attività nel sud d'Italia domandatevi perché o perlomeno io me lo domando ma se lo dovrebbero domandare in tanti perché sotto Roma sotto Firenze non c'è più una corsa in Italia c'era l'Etna c'era il Pantalica c'era la settimana sarda poi diventata la settimana siciliana c'era il giro di Calabria il giro di Reggio Calabria il giro della Campania il giro di Puglia il giro della Basilica non ce n'è più uno allora qualcuno si dovrà domandare perché e oltre che domandarsi operare affinché qualcosa almeno provare a far rinascere allora io sono preoccupato di questo ma anche perché il punto di arrivo e non voglio entrare in polemica sul tema delle wildcard però se il punto di arrivo è io faccio la squadra perché corro il giro è sbagliato è sbagliato in partenza io faccio una squadra perché credo a un progetto squadra in questo progetto parto facendo delle operazioni che ogni anno mi portano a più quando uno mi dice tu fai morire il ciclismo perché non fai correre queste due squadre è il contrario è il contrario sono loro che fanno morire se stessi perché vanno a vendere agli sponsor delle cose che non hanno è chiaro che poi in questo si innesca anche un altro tema ma quali sono i diritti di queste squadre è vero però non è l'organizzatore la controparte è un sistema e allora anche qui il ragionamento è molto più ampio però dal punto di vista della tua domanda io ti dico che se alla base facciamo morire tutto il ciclismo di base al vertice tutto è legato al fatto di essere o non essere presenti a un evento beh insomma voglio dire vuol dire che progettualità ce n'è poca idee ce ne sono poche questo è il mio commento alla situazione problemi tantissimi quindi ultima cosa Mauro al momento di disegnare questo percorso se dovesse scegliere 3-4 punti che lei non ve l'ora di vederli quali sono? ma guarda io ti dico ce ne sono 3 o 4 consentimi perché in parte rappresentano quello che ti dicevo alla tua prima domanda cosa è questo girocento insomma la Sardegna non vedo l'ora di vederla terra magnifica posto meraviglioso spiagge bellissime mare bellissimo è l'Italia paesaggistica l'altra tappa con questo senza fare come dire classifiche ma anche molto dipende anche da quello che è il tuo di cuore di sentito l'altra tappa che mi aspetto ma me l'aspetto non tanto per me queste cose me l'aspetto per far vedere al mondo quanto è bella l'Italia quindi è più un ragionamento non proteso verso di me ma proteso verso chi sta di là a guardare l'altra albero bello credo che sia uno dei paesaggi più fantastici più straordinari dal mio punto di vista solo cosa è stato che ho visto così per certi versi così impattante l'Anatolia come si chiama quello dove ci sono le grotte di sale con le cascate ecco quello è un altro paesaggio da 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 sbigottimento da rimanere a bocca aperta ecco per chi non ha visto i trulli albero bello una città di trulli credo che sia una proposta italiana da portare in giro per il mondo poi chiaramente mi aspetto anche la tappa dello Stelvio col Mortirolo perché lì si sono compiute moltissime delle imprese che hanno fatto la storia del giro per cui ecco c'è un po' di tutto nel mio aspettare c'è un aspettare sportivo e c'è un aspettare di narrazione di un paese la tappa dello Stelvio probabilmente con alcune notti insonni c'è la settimana precedente come al solito ma diciamo che tutta l'ultima settimana purtroppo per come è cambiato il clima negli ultimi dieci anni quindici anni maggio è una stagione veramente è un mese veramente a rischio e credo che sarà il motivo per il quale chiederò anche all'USIAI la possibilità di riportare indietro almeno almeno di una settimana il giro per sperare che la settimana la prima settimana di giugno si possa provare a sperare di non dover dormire stare sveglio tutta la notte per aspettare e il tempo a sperare di non dover dormire di non dover dormire di non dover dormire Grazie a tutti